Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Tessila News. Oggi voglio parlarvi di un articolo arrivato da poco in casa Tessila che ha fatto davvero innamorare tutti. Siete curiosi di scoprire qual è l'articolo? Vediamolo insieme! Eccolo qui l'articolo che vogliamo presentarvi. Si tratta proprio del calendario dell'avvento a marchio primo che trovate disponibile sul nostro catalogo. Voglio darvi pochissime connozioni. La prima soprattutto più che altro è un suggerimento di affrettarvi quanto prima nel caso in cui vorreste comunque aggiudicarvi il calendario dell'avvento acquistatelo quanto prima, a prescindere prima dell'inizio del mese di dicembre ma bensì siate veloci perché si tratta di una edizione limitatissima che potrebbe terminare quanto prima. In più voglio ricordarvi come prima cosa l'importo, quindi il costo del calendario dell'avvento che è di 79 euro. Attenzione! Il prezzo è davvero ottimale in quanto all'interno ci sono comunque articoli che hanno un valore di acquisto molto più elevato quindi è comunque un affare tra virgolette assicurarselo con questo importo. Poi partiamo subito appunto dal calendario dell'avvento ve lo mostro diciamo per quanto riguarda il suo aspetto estetico abbiamo questa scatola che è composta da due facciate quella superiore e quella di dietro dove ci sono le 24 caselline quindi qui potete vedere è molto colorato comunque mette di buon umore solo a guardarlo e ci sono 24 caselline che potrete aprire dal primo dicembre. All'interno che cosa trovate? Noi non vogliamo essere ecco molto non vogliamo darvi troppi spoiler proprio perché lo sfizio, diciamo il frutto del calendario dell'avvento è proprio questo sorprendersi ogni giorno all'apertura della casellina sicuramente ci troverete all'interno tutti articoli utili all'handmade quindi la coppiata vincente sarebbe proprio quella di regalare o acquistare questo articolo e darlo a chi è una creatrice o è un creativo ed è appassionato del Natale proprio perché le due combinazioni offriranno poi la giusta ecco meravia all'apertura delle caselline all'interno delle caselline che cosa troviamo? stavamo dicendo troviamo tutti articoli, tutti strumenti sartoriali quindi tutto quello che è utile per le vostre creazioni sicuramente troverete delle spille, dei fili, dei metri ergonomici tutto quello appunto che poi vi ritroverete ad utilizzare non subito ma per le creazioni future un'altra caratteristica molto importante e forse quella che più ci è piaciuta ecco in un periodo in cui siamo davvero molto attenti all'ambiente è sicuramente il fatto che il calendario dell'avvento all'interno ve lo faccio vedere in questo modo se riesco perché non voglio come detto spoilerarvi ha un materiale compostabile utilizzabile appunto per piantare dei semini che aiuteranno le apline a vivere più a lungo se poi non volete piantare i semini per le apline potete tranquillamente piantare delle piantine aromatiche per esempio e tenerle in ordine sul vostro balcone, sulla vostra terrazza o nell'aiola del vostro giardino adesso ci tengo a spoilerarvi un po', quindi poche caselline del calendario dell'avvento per mostrarvi, per farvi fare un'idea di quello che troveremo all'interno allora come prima cosa priviamo il calendario di questa fascetta sempre in cartoncino che ci presenta un po' i materiali contenuti all'interno il mio consiglio è quello semmai di disfarsene quanto prima perché poi c'è scritto tutto non ci sono ecco i giorni segnati con precisione ma comunque c'è la lista di tutti gli articoli che trovate all'interno delle caselline quindi qui è tutto riassunto poi come primo spoiler partiamo da questo qui apriamo una casellina e all'interno vi faccio vedere cosa trovate allora il packaging è davvero molto carino e romantico più che altro qui abbiamo degli aghi utili per le vostre creazioni e qui troviamo un contenitore di aghi quindi all'interno come vedete potete girare il contenitore e vengono fuori gli aghetti che voi potete conservare poi c'è una calamita che rimette tutto all'interno chiudete e potete conservarli nel vostro kit non so di cucito per esempio quindi questo è il primo la prima casellina che vi mostro poi giusto per farmi voler bene ne apriamo un'altra vediamo un po' allora proviamo con questa qui ok vediamo cosa viene fuori e all'interno ci sono ha una confezione di spilletti colorati questi qui sono con il giallo e all'interno appunto nella parte superiore hanno dei fiorellini con il giallo io non me la sento non mi prendo la responsabilità di spoilerarvi altro perché voglio che lo fate da soli e che soprattutto vi potete meravigliare ogni giorno di quello che vi uscirà in ogni sezione un consiglio qualora appunto decideste di acquistarlo fate delle foto delle storie su instagram taggateci aprendo la casellina con quello che vi è venuto fuori così possiamo ripostarvi tranquillamente e mostrare anche agli altri il contenuto del vostro calendario dell'avvento per quanto ecco mi riguarda vi ho detto un po' tutto per qualsiasi informazione sapete che potete contattarci nella chat del sito, su whatsapp, tramite email con la chiamata in assistenza quindi siamo a vostra completa disposizione ogni volta che ne avete bisogno vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social quindi a partire dal canale youtube se vi è piaciuto anche questo video lasciate un like se volete avete altre domande lasciateci un commento perché risponderemo quanto prima vi ricordo ancora di ripostare sulla nostra pagina facebook meglio di mai alle vostre creazioni realizzate con i nostri articoli seguiteci sulla pagina instagram sulla pagina di tiktok e su pinterest e non mi retta che dirvi al prossimo video ciao